Eccoci qua ragazzi, ora facciamo i giri per gli abbonati, ovviamente oggi la ruota fortunata è dedicata solamente al nutellone che ha fatto il pazzerello, subito si... Mamma mia che pelo! Primo giro buco, ha 6 giri totali, ne mancano ancora 5 ragazzi, mamma mia di quanto non ha vinto la card da 2800 WBAC Andiamo con il terzo giro ragazzi, terzo giro, mamma mia, mamma mia, terzo giro buco, quarto giro Vi ricordo ragazzi che chi si abbona, sempre in maniera trasparente come vedete, avete la doppia possibilità di vincita Peccato, guardate ancora di un pelo non si è portato a casa la card da 1000 Andiamo, nuovo giro ragazzi, nuovo giro Niente, vediamo ultimo giro del nutellone, andiamo Vediamo, 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 vediamo Oh Mamma mia nutellone, che pelo, che pelo ragazzi Vediamo, 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 vediamo.